Non si può fare terrorismo perché poi dietro ci sono le persone che si preoccupano, qui non si butta fuori nessuno. È l'affermazione ribadita più volte dal sindaco di Fano Massimo Seri che dopo le critiche dell'opposizione sui progetti inerenti alla sorte della casa di riposo Don Tonucci e al destino degli ospiti della struttura ha indetto una conferenza stampa per mettere i puntini sulle I. A partire dalla volontà dell'amministrazione comunale di ampliare il servizio in vista del continuo aumento di richieste dovuto dall'allungamento della vita media e di conseguenza della situazione di non autosufficienza delle persone. Quindi volendo realizzare nella casalbergo una RSA, una residenza sanitaria assistenziale, gli ospiti dovranno essere trasferiti, ma non prima di un anno e mezzo, in una nuova struttura equivalente che il neogestore deve ancora individuare. La scelta dell'ubicazione che sarà condivisa con le famiglie e annunciata entro settembre offrirà gli stessi servizi di cui stanno usufruendo ora come l'assistenza infermieristica, la lavanderia e i passi preparati. La nuova sede inoltre sarà situata o nelle vicinanze di quella attuale o comunque nei pressi del centro città. Sì, mi sono veramente scocciato perché io mi rendo conto che un'opposizione come questa, che non è in grado di fare nessuna proposta nuova e non ha argomenti perché stiamo dando risposte su tutto, ripetono sempre il solito ritornello. Hanno tre, quattro argomenti sempre su quello e anche sulle cose più deboli dove potrebbero fare cose faville non hanno avuto la capacità di presentare una sola proposta in prospettiva per la città. Detto questo, non è che ogni dieci giorni posso ritornare a spiegare le stesse cose. Per quello che riguarda il progetto della Don Tonucci, qui parliamo di un progetto straordinario per questa città. Portiamo altri 80 posti, 40 di RSA che Fano non aveva, era l'unica città importante delle Marche che non aveva neanche un posto di RSA, più 20 posti di demenza e più 20 posti di cura intermedia. Mi rendo conto che per chi fa opposizione disturba questo perché non sono stati capaci di farli prima. Agli ospiti non si può fare terrorismo perché poi dietro ci sono le persone che si preoccupano, qui non si butta fuori nessuno. Cercate qualche altro argomento. Mentre la città con questa operazione avrà una risposta straordinaria mai avuta in precedenza, portiamo, aggiungiamo a un fabbisogno alto altri 80 posti. Scusate se è poco.